Forse l'annuncio è stato affrettato, magari l'estemporanea manifestazione di un intento possibile ma non ancora deciso. In ogni caso ha colpito nel segno e fa discutere quale che sia la decisione finale che il Comitato Pro Tribunale di Modica assumerà. Chiedere o no il sequestro conservativo dell'edificio di via Natalelli a Ragusa che ospita il Tribunale Ibleo? Il Comitato ne ha parlato già nella riunione tenuta sabato scorso a Palazzo San Domenico a Modica ma nessuna decisione definitiva per la quale servirà un'apposita azione giudiziaria. Alla base le criticità strutturali dell'immobile dichiarate già nel 2013 fa presente il Comitato dal Procuratore e dal Presidente del Tribunale e a gennaio di quest'anno dal Capo del Genio Civile di Ragusa. Il tema, già affrontato sabato e ripreso anche oggi dal Comitato, incrocia un fronte polemico con il Sindaco di Ragusa Cassì dopo l'affermazione di Galazzo. La fortuna aiuta gli audaci, non gli stolti, in relazione alla leggerezza con cui sarebbero trattate le condizioni di pericolo dell'edificio. In effetti risale al 2010, ben prima della chiusura del Tribunale di Modica, l'allarme sulla condizione dell'edificio. Fu allora infatti che se ne chiese la manutenzione ordinaria e straordinaria, poi eseguita. Ma nel 2014, nuovamente, il problema si è riproposto, ma ancora nessuna conclusione risolutiva. Grazie. 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 Grazie.